Che l'emergenza non fosse finita era noto da settimana e è stata effettuata così in via Conteverdi a Campomasso una nuova operazione di bonifica nell'abitazione all'interno della quale lo scorso 17 dicembre vennero trovati oltre 200 chili di dinamite. Nei giorni successivi alla rimozione dell'esplosivo erano stati i vigili del fuoco a emettere un'ordinanza disponendo un'ulteriore bonifica perché all'interno della casa erano presenti ancora materiali esplosivi e pericolosi. Nei giorni scorsi poi la situazione è ulteriormente peggiorata a causa di una canna fumaria pericolante che in caso di cedimento avrebbe potuto innescare un'esplosione vista la presenza nell'edificio del materiale pericoloso. Venerdì scorso si è tenuto un tavolo in prefettura con tutte le istituzioni interessate ed è stato deciso di procedere con urgenza alla bonifica che è stata effettuata da un'azienda specializzata di Milano insieme ad un'altra ditta di Porto Recanati. A preoccupare erano soprattutto dei gas cosiddetti instabili contenuti in vecchie bombole oltre ad altro materiale infiammabile rimasto all'interno per decenni. Sul posto sono così nuovamente intervenuti oltre ai tecnici incaricati della rimozione anche i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia municipale e l'ARPA. La strada è stata chiusa al traffico mentre il materiale esplosivo veniva rimosso e portato via. Lo scorso 17 dicembre la zona era stata evacuata per ore per consentire la rimozione della pericolosissima dinamite che era rimasta nascosta nello stabile dagli anni 80.